C'è tantissimo lavoro da fare, però devo dire che c'è anche tanta voglia di fare, abbiamo incontrato gli operatori e si guarda con serenità al futuro, questa è la cosa più bella e più importante, quest'anno si riparte alla grande. Ha preso impegni il governo con l'Umbria? L'impegno è di essere sempre a fianco delle nostre bellissime regioni, quindi come sa benissimo il governatore Tesei, il governo c'è, il ministero del turismo c'è, ma fortunatamente qua i fondamentali sono ottimi, quindi guardiamo con serenità al futuro. Grazie, grazie mille, grazie, grazie.